Il mercato concluso per la Trentino Volley, inevitabile tracciare un bilancio, tante operazioni. Angelo, sei soddisfatto della squadra restita dalla società? Soddisfatto soprattutto per il clima in cui è avvenuto, in cui abbiamo lavorato quest'estate, un clima di condivisione, di giornate di dubbi, di domande e poi dopo di risposte, poi dopo dove avremo fatto giusto e dove invece magari avremo fatto qualche errore ce lo dirà il campo e ovvio che dopo cercheremo di lavorare in modo tale che insomma siano più quelli della prima categoria che quelli della seconda. A livello di caratteristiche ovviamente è ancora presto, però mi sembra che l'idea sia quella di una squadra che gioca in velocità, un gioco sempre molto veloce, almeno vedendo gli attaccanti che avete scelto. Sì, come linea di massima dovrebbe essere questa la caratteristica, è ovvio che il compito per Simone sarà quello di trovare il feeling con tanti nuovi giocatori, quindi quando arriverà saranno giornate insomma in cui lui dovrà prima sentirli, vederli e poi dopo decidere bene il gioco che vorrà fare, questo qui penso che sia la caratteristica principale, avremo da lavorare parecchio in ricezione, però insomma questo è quello che insomma si legge e si prevede, poi dopo come sempre come dicevo prima il campo è quello che ci dirà le indicazioni precise su cui lavorare. Sono stati fatti tanti cambiamenti, è stato un mercato molto attivo non solo per Trento ma in generale per l'intera Superlega, dove collochi in questo momento a bocce ferma ovviamente a Trentino Volley? Ma collocarla non è facile perché è ovvio che noi vogliamo fare bene, però abbiamo cambiato tanto, come tanto hanno cambiato altre squadre, diciamo che quelle che sono rimaste più stabili sicuramente sono Perugia e Macerata, che forse all'inizio avranno un vantaggio sotto questo aspetto qua, però insomma quando si cambia si sa dove si vuole andare, si sa anche quante curve si bisogna fare e noi qualcuna ne dovremmo fare, speriamo di non diminuire troppo la velocità. È rinnovato anche lo staff tecnico, una squadra ancora più affiattata da questo punto di vista? Come ho sempre detto, anche a fine del campionato con lo staff precedente sono stato bene, le ringrazio ancora, le novità che ci sono sono state dovute, soprattutto quasi tutte, perché insomma per un verso o per l'altro i professionisti che c'erano prima hanno deciso di cambiare, sono contento per i sostituti, per quelle persone che sono riuscito assieme alla società a contattare, le ringrazio di loro sì, sono ragazzi su cui io credo molto in termini professionali, soprattutto in termini di persone, con tutti loro ho lavorato, sono stato bene e sono convinto che faremo una buona squadra a servizio della squadra che conta, che è quella che va in campo e che deve cercare di ottenere il massimo. Qual è stato secondo te il vero colpo di questo mercato? Questa facile faccia non è come domanda, però io credo che quando una società si priva di un giocatore come ormai Bandiera, come Colaci, sostituirlo al meglio non era facile, io sono convinto che l'arrivo di Pandis sia un buon sostituto e quindi siamo da quella piccola in pass che si poteva pensare di creare, la società sono convinto che sia uscita bene e quindi dopo anche per il sostituto, insomma per come lavoreremo ci sarà da dimostrare, però io sono fiducioso. Grazie.